Parte il piano di recupero e ristrutturazione di una serie di impianti sportivi presenti sul territorio comunale di Roseto. Proprio in questi giorni il Comune ha aperto le buste dei bandi per l'affidamento delle opere che interesseranno in modo particolare lo stadio di Via Fonte dell'Olmo, del campo sportivo di Santa Lucia e di Cologna Spiaggia. Lavori che partiranno non appena verranno espletate, ultimate le procedure burocratiche e dopo l'ondata di maltempo previsto nelle prossime ore. Si tratta di opere per le quali il Comune ha previsto un investimento di circa 200 mila euro. Saranno eseguiti interventi di messa in sicurezza dei tre impianti sportivi, in modo particolare per quanto riguarda lo stadio di Via Fonte dell'Olmo e il campo Silvino D'Emilio di Cologna. Per il vice sindaco Simone Tacchetti si tratta di lavori necessari e che erano stati programmati già l'estate scorsa. Per quanto riguarda gli impianti sportivi della città comunque non è l'unica novità. In uno degli ultimi consigli comunali, infatti, è stata approvata la delibera che prevede l'affidamento in gestione di tutte quelle strutture che hanno una rilevanza economica importante. Tra questi anche il Palamaggetti. Con l'approvazione della delibera, l'ente dovrà ora indire tutti i bandi per l'affidamento delle strutture. Un'operazione che richiederà del tempo, ma che dovrebbe essere portata a termine già entro la prossima primavera, sperando che ci siano società interessate nella gestione. Qualche dubbio resta per il palazzetto dello sport, i cui costi sono considerati elevati.